Bologna 2030, visione cooperative per un futuro sostenibile, è un progetto che è nato dalla necessità e consapevolezza di essere responsabile nei confronti della nostra comunità, della città metropolitana di Bologna, sfidando anche le nostre imprese a raccogliere gli obiettivi contenuti nell'agenda del millennio e nei 17 SDGs per capire se potevamo costruire degli indicatori cooperativi che ci potessero consentire di misurare e migliorare le nostre performance sugli obiettivi del millennio. Abbiamo costruito degli indicatori di valore cooperativo su tutti i Millennium Goal e su tutti i sotto obiettivi e oggi siamo nelle condizioni per almeno una quarantina di queste di monitorare e verificare e stimolare le imprese associate a raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere al 2030. Sono tutti obiettivi di sostenibilità legati in particolare alle tematiche del lavoro di genere, dello spreco alimentare, del rispetto per l'ambiente, della tutela del suolo e del territorio, sui quali abbiamo deciso di concentrarci. Un altro piano sul quale invece abbiamo lavorato è quello più legato alla comunità. Abbiamo cercato di capire come nel nostro rapporto con la comunità insieme alle cooperative potevamo essere fattore scatenante di processi di aggregazione e anche di autoorganizzazione dei cittadini nel costruire progetti di comunità rivolte ai cittadini e ai quartieri. Abbiamo avviato con l'amministrazione comunale e con molte associazioni del territorio i percorsi per arrivare alla costruzione di cooperative di comunità di quartiere con l'obiettivo di rendere più sostenibile la vita nei quartieri e di rigenerare anche spazi sia dal punto di vista fisico che sociale. Il terzo piano è quello di invertire invece la riflessione che oggi facciamo quando parliamo di sostenibilità, lo facciamo raccontando gli effetti o cercando di limitare gli effetti di ciò che facciamo come imprese verso il mondo esterno. Abbiamo pensato fosse opportuno riflettere su come fin dalla strategia o fin dal momento nel quale si pensa un prodotto o un servizio si potesse ragionare in termini di sostenibilità e quindi in collaborazione con l'Università di Bologna, Alma Cube e il Cerna di Ginevra abbiamo avviato questo progetto che ha coinvolto una sessantina di studenti dell'Università di Bologna per iniziare appunto a pensare nuovi modelli di business, nuovi prodotti, nuovi servizi partendo da appunto un assunto che devono essere prodotti e servizi sostenibili e quindi anche in questo caso c'è un contributo alle imprese nello stimolarle a pensare alla sostenibilità già negli elementi appunto strategici del loro agire. Quindi complessivamente è un progetto piuttosto complesso che non guarda al domani con un pensiero breve ma con un pensiero piuttosto lungo che ha quantomeno il 2030 come punto di riferimento ma che impegna tutte le cooperative di Bologna in un percorso che pensiamo possa rappresentare in modo forte un'azione di responsabilità anche verso il territorio nel quale viviamo.